buonasera a tutti da me e la mia borraccia ho ritardato di un minuto perché mi stavo impiccando col filo del microfono che era tutto aggrovigliato quindi non sono riuscito a fare in tempo tolgo le notifiche dal telefono prima che mi innervosisca che magari ok quindi se non mi sentite ho toccato i tasti sbagliati dunque aspettiamo due minuti che si connetta un po di gente in realtà vi siete connessi anche troppi in breve tempo non me l'aspettavo buonasera buonasera allora oggi sono particolarmente scoppiato perché faccio schede praticamente da stamattina alle 10 quindi ho gli occhi che mi si incrociano più tutte le domande a cui ho risposto e tutte le domande a risposte che mi danno un ottimo spunto da cui iniziare nello specifico l'ho scritto anche su facebook un'oretta fa in uno dei miei dei miei daliri guarda un po la tendenza chiamiamola a volere troppo soprattutto obiettivi che tra loro sono palesemente in antitesi diciamo esempi esempio classico che ho visto tanto oggi nelle domande ovvero un po sempre la tentazione di stare in norma calorica nell'affrontare un qualsiasi tipo di programma perché immagino che quasi sempre così in effetti c'è la paura di stare in comprensibile comprensibile la paura di stare in iper calorica per fare un programma di forza un programma di massa cioè c'è questa tendenza a voler stare in norma calorica pur facendo programmi che esigono invece un surplus calorico che per carità si cresce comunque però si cresce decisamente con il freno a mano tirato perché difficilmente se già metà in effetti comincio a cedere di solito difficilmente si riesce a ottenere il massimo da un programma se io ho il freno a mano tirato della dell'alimentazione mi ricordo io quando che cazzo è passato un aeroplano vabbè mi ricordo io quando facevo l'ultima gara che ho fatto proprio di powerlifting ho deciso di mettermi letteralmente all'ingrasso perché avevo fatto la penultima gara a settembre e l'avevo fatta tutta col freno a mano tirato perché pesavo 77 e mezzo una cosa di questo tipo e poi mi sono trovato ah ci vediamo a Padova perfetto sì sto dicendo mi sono trovato a fare l'ultima gara che praticamente non sto scherzando sono entrato in categoria praticamente sputando andavo in giro per il palazzetto ogni tanto andavo in bagno a cercare di sputare o visciare in qualche modo perché non riuscivo a entrare in categoria a parte questi dettagli scabrosi e da lì mi sono entrato in categoria perché pesavo 77 e 95 quindi tipo per 5 grammi e da lì ho detto non ne vale più la pena mi sto allenando troppo tirato per stare in categoria e da settembre al maggio dopo praticamente con una buona dose di saccharin mi aiuto sono arrivato a riempire la meno 85 sono arrivato a 84 sì esatto ora ti dico e praticamente sono passato ad aver fatto se non ricordo male i 135 perché tra l'altro avevo sbagliato il calo di liquidi e avevo fatto una gara veramente pessima a 160 in 6 mesi perché comunque se uno vuole prendere chili di forza vuole prendere chili letteralmente fisici c'è da mangiare tutto il periodo che io ho passato sempre col dicevo fare una mano tirato ovvero nel cercare di non sporcarmi troppo ma di ottenere più forza che potevo è stato un periodo non dico fallimentare però ho preso 20 chili di panca in due anni mi sembra e poi ne ho presi praticamente 20 in 6 mesi mangiando facendo le cose per bene perché è una questione di compromessi cioè se io voglio diventare più forte devo ovviamente chiudere un occhio sulla forma fisica che non vuol dire diventare un obeso di 160 chili però magari stare tirato e voler fare uno sport prestazionale sono due cose proprio agli antipodi così come all'opposto fare diete di mi collego a una domanda sul minicat che ho letto che era scusate ecco un minicat ad esempio un minicat ha senso comunque farlo su 5-6 settimane almeno oggi parlavo con un ragazzo che seguivo che mi ha detto vorrei fare un minicat di 3 settimane purtroppo in 3 settimane perdi solo del tempo che potresti impiegare a fare altro in 3 settimane non si ottiene fondamentalmente nulla neanche da un minicat che ha un periodo di almeno 4-6 settimane oltre alle 6 settimane diventa un periodo di definizione però un minimo bisogna starci anche perché ora facendo due conti almeno mi prendo la calcolatrice scusate lo zoom sul mio faccione un deficit decente in 3 settimane 21 giorni per perdere 3-4 chili vorrebbe dire un deficit di 30.000 calorie che se lo dividiamo su 21 giorni sono praticamente 1500 calorie di deficit giornalieri praticamente non bisogna mangiare non si può impostare un minicat su periodi comunque troppo brevi minicat lo sta facendo con questo dolce ricotta e cioccolata che ho sotto mano esattamente si fa così il minicat no scherzi a parte a tutto bisogna dare il suo tempo e a tutto soprattutto bisogna dare i come dire voglio perdere peso? devo stare a dieta o mangio un po' di più e ci metto il cardio o comunque non vado dove voglio andare così come se voglio prendere peso devo mangiare un surplus di 200 calorie al giorno significa che praticamente ho preso un chilo tra un mese e mezzo cioè vuol dire se tutto va bene che sono migliorato di qualcosina tra un mese quando dovrebbe essere comunque un pochino più veloce la situazione quindi il voler non cedere a un qualche tipo di compromesso fa sì che si comprometta invece il risultato finale purtroppo funziona così e purtroppo invece c'è quasi sempre la moda del voler unire le cose il power building che promette il fantastico risultato di diventare grossi e forti contemporaneamente che è decisamente impossibile la ricomposizione corporea ora tutti vogliono fare ricomposizione corporea anche oggi una domanda era sono oltre il 20% di bf come faccio body recomp minchia body recomp significa praticamente a grandi linee perdo un chilo di grasso e metto un chilo di muscolo se sono al bf sopra il 20% non devo ricompore niente devo disfarmi tipo puzzle e poi rimontarmi cioè la via più breve quasi sempre non porta da nessuna parte ora riprendendo un po' di domande che mi sto partendo partendo dalla più importante l'ultima panettono pandoro non li ho mai provati a fare perché sono un casino assurdo cioè non mi ci metto neanche perché sono devi misurare il pH del lievito cioè praticamente come prendersi cura di un bodybuilder dopato o fare il panettone quindi lievito riprendo dall'inizio tutte le domande anche se magari qualcuno si è scollegato o scoglionato dipende magari entrambe le cose vabbè a livello di programmazione ovviamente in deficit calorico quindi riferito al discorso sul minicat devo tanto ora sta vicino al Natale so che le domande sul minicat torneranno improvvisamente in auge e ovviamente cala il volume se io sono in deficit calorico devo semplicemente tagliare il volume ma tenendo l'intensità più alta possibile perché se io talgo l'intensità e talgo il volume mi sto diallenando riguardo invece al contare i macro che vedevo per l'allenamento della forza ora sinceramente a grandi linee sì però non starei a fargli una malattia come fanno alcuni cioè guarda più che altro se vuoi prendere peso assicurati di aver raggiunto un buon apporto calorico giornaliero se vuoi perdere peso entrare in categoria assicurati di avere il deficit ma contare minuziosamente i macro nel powerlifting non serve a molto secondo me offrire una risposta overreaching overtraining come riconoscerli? no allora secondo me tendenzialmente le persone strafraintendono il concetto di overtraining e fraintendono allo stesso tempo l'overreaching nel senso che alle persone piacerebbe spesso essere sovrallenate però ho un'ambulanza che strano però non è così cioè per essere sovrallenati significa aver superato settimane e settimane di overreaching ovvero una fase di sovraccarico funzionale chiamiamolo ovvero io ho fatto settimane settimane in cui oggettivamente la mia prestazione che perché vi siete dati del panzone a vicenda ora la guardo dopo settimane e settimane di prestazione che cala entro in overtraining quindi ci sono tutti sintomi nausea non dormo tutto questo questo qua però prima di arrivare a queste fasi bisogna passare un lungo periodo in cui gli allenamenti fanno veramente schifo quindi prima di essere sovrallenato magari faccio un mese in cui di panca sollevo 20 kg di meno quindi già quello è il campanello d'allarme e le persone pensano invece che appena cala la prestazione sovrallenamento no c'è tutta la fase prima che viene saltata molto spesso dunque ok sto tornando in pari come posso impostare una panca stretta in una scheda di powerlifting serie ripetizioni eh boh cioè dipende da dove le inquadri quindi è difficile da da dirti quante serie ripetizioni fare tendenzialmente almeno io la facevo con serie ripetizioni un pochino più alte intorno al 70% stavo sulle 7-8 ripetizioni perché la mettevo in una fase di ipertrofia però dipende anche perché i gomiti non è che apprezzino molto comunque lavorare stretti con carichi troppo pesanti quindi tre ripetizioni alte rimedi doms allenarsi quasi sempre cioè se tu hai dei doms e ti ci alleni sopra oltre al fatto che l'allenamento sarà terribilmente doloroso recuperi abbastanza in fretta da dopo l'allenamento sento affaticare maggiormente i muscoli anteriori della tibia durante squat e leg press possibili cause? non ne ho idea ecco perché perché sei un panzone no sinceramente non saprei anche perché la tibia non è che svolga una funzione particolarmente attiva quindi non mi viene in mente sono stanco da due mesi potrei essere in overtraining per troppe trombate? possibile perché è più facile andare in overtraining per chi pratica più attività contemporaneamente quindi uno che fa crossfit ad esempio uno che fa preparazione atletica e uno sport tipo che so fai palestra più preparazione atletica di rugby e fai rugby possibile sport a combattimento cioè vai in overtraining più rapidamente chi mischia le attività per andare in overtraining il solo allenamento in palestra o sei dopato quindi vuol dire che fai troppo o oggettivamente sei anche un po' particolarmente stronzo perché vuol dire che appunto per mesi 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 o settimane comunque hai fatto veramente troppo e non hai continuato quindi è tecnicamente stupidità non fermarsi quando ci sono tutti i campanelli che dicono che dovresti farlo quindi hai fatto un po' troppo no pain no gain e sei andato in conto uno di infortunio sì no immaginavo che stavi scherzando infatti ho preso la palla al bazzo per rigirarla in modo serio però a parte tutto è vero cioè fare solo palestra è difficile sovralenarsi anzi quasi sempre sui vari gruppi facebook quando si vedono le persone che dicono oddio sono sovralenato poi guardi i profili o guardi qualche video degli esercizi che fanno ed è altamente probabile che in realtà quello sia proprio l'inizio di un overreaching cioè hanno cominciato ad allenarsi si spaventano dicono no torniamo subito a fare meno poi ovviamente se uno è a dieta infatti ho visto una domanda prima overreaching da tanto tempo non ho cali vistosi della prestazione ma una stanchezza cronica nonostante il periodo di percalorica beh ci può stare che se tu fai oggettivamente per tanto tempo tanto volume o tanta intensità la cosa di overreaching non si tolga quindi lì ci sta a tagliare di parecchio anche il volume per riuscire a soprafidere in qualche modo quindi ci sono scarichi con una due settimane dovresti cavartela e dovresti riuscire a tornare a una una situazione decente anche perché se uno tiene sempre il volume alto oltre al fatto di andare in overreaching anche il problema che poi se tu ti condizioni a rendere allenante solo un volume alto quindi ti abitui a fare un volume veramente alto tu per avere risultati devi cercare di fare ancora di più però se il tuo limite l'hai già raggiunto non potendo tu diventare super saiyan non puoi andare oltre il tuo limite e succede che praticamente ti riduci come quelli che fanno 42 esercizi per le braccia in una seduta perché se no non crescono e continuano a non crescere quindi ogni tanto bisogna ricondizionarsi al volume perché altrimenti con il rischio di fare sempre tanto non si va da nessuna parte blocchi per trofia va di nove errici ogni quattro settimane scarico la quinta un senso beh fa così la scuola lo faccio fare anch'io la scuola americana quella del juggernaut quindi fanno volume uno due tre quattro settimane sempre più alto e poi la quinta si scarica e poi si fa un altro ciclo magari con il volume spostato un pochino più in alto e poi si fanno tre settimane e loro mettono addirittura tre settimane di lavoro maggiormente orientato all'intensità quindi carichi dall'ottanta 85% in su due o tre serie per esercizio proprio per riabituare il corpo all' all'intensità cioè per fargli fare l'intensità e riabituarlo al volume dunque poi prima ho visto la domanda 541 di Pasquale no mai provato e po 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 non fa ernie non ne parlo aprirai mai una pasticceria guarda con sana pt no a volte ci scherzo e il mio piano chiamiamolo piano c per ora non piano b a volte onestamente piacerebbe fare tipo il fumetti a pascal sparire aprirmi una pasticceria a tromso sotto falso nome non credo si possa più caldo per il falso nome però non sarebbe brutto allenatevi sì nel dubbio scherzi a parte la la risposta a quasi tutte le domande è quella perché anche oggi vedevo ci sono sempre domande su come modificare programmi io devo mettere qualcosa per le moto con ste marmitte che mi passano sotto casa e dicevo la gran parte delle risposte alle domande di oggi sarebbe prova cioè come sempre mercoledì le risposte dovrebbero essere quasi sempre prova perché prima si prova e poi si vede da sé se una modifica ha senso o meno farla anche proprio in prima persona ti poggio una domanda che sul build star ha senso introdurre complementari però vedi se senti oggettivamente bisogno di complementari il build star è un programma che fa già mettere i complementari quindi perché cazzo devo aggiungerne io cioè se la fine del build star praticamente ci sono tutti i multi articolari possibili in un'unica seduta quindi come faccio ad aggiungere il complementario ancora sei pronto per zombie land sì spero sia bello perché sinceramente il primo lo adoro cioè la prima volta che l'ho visto l'ho trovato fantastico e se il 2 mi delude probabilmente do fuoco alla sala perché non posso tollerare che sia brutto ho mantenuto il volume elevato per il petto 30 set da 2 mesi minchia senza mai scaricare adesso sto facendo scarico diventando il volume tutti i giorni calando il 10% 30 set per 2 mesi sono tanti anche perché vuol dire che hai probabilmente cannato un po' con la progressione cioè come hai progredito poi vuol dire che hai fatto 2 mesi sempre la stessa cosa chiedo però sicuramente 30 set per 2 mesi sono molto ecco sì oggi avete avuto un po' la pasticceria salata importantissima dipende ho un libro di Massari sulla pasticceria salata ma non ho mai fatto niente e oggi avete tutti avuto un po' questa brillante idea di voler provare lo smolo sullo stacco da terra il che mi fa un po' intuire due cose non avete mai fatto lo smolo non avete mai fatto una frequenza alta sullo stacco da terra perché un'idea così se no non ti viene in mente perché è veramente una cosa molto 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 pesante che non farei mai cioè per assurdo sì è molto più probabile chiuderlo e che sia gestibile nello stacco a livello teorico perché comunque di stacco ho il massimale più alto quindi gli aumenti previsti dallo smolo nello stacco li patisco di meno allo stesso tempo fare quattro stacchi secondo me dopo la prima settimana ci si blocca perché diventa veramente veramente tassante lo stacco parte tutto ha una curve di recupero un pochino più lunga dello squat e anche il fatto che comunque i carichi siano maggiori vuol dire che stressa di più quindi da un lato è più probabile che io lo chiuda dall'altro è più probabile che mi sfondi quindi no non fate troppo stacco anzi non mi ricordo mai lo studio era un articoletto stupido che avevo scritto su AIF mio dio troppo tempo fa ora che ci penso uno di quei pocket che usciva dall'inizio in cui praticamente c'era scritto che togliendo uno stacco la gente fondamentalmente aveva più ipertrofia perché era meno stressante quindi se voi fate quattro stacchi cioè li fate per un periodo poi li togliete tutti di colpo esplodete probabilmente perché lavorare con così alta frequenza sullo stacco significa non avere energia per nient'altro ecco vedi che allora che ci ho preso sui 37 eccessivi no fate un periodo decisamente se facevi 37 immagino che l'intensità fosse comunque media cioè se facevi 37 che so sopra l'80% di intensità con ripetizioni medio-basse probabilmente sei un pazzo spero non sia questo il caso e no fai un periodo decisamente con basso volume un mesetto con se ne eri abituato a farne 30 non andare oltre le 15-20 e già sono alto dico 15-20 perché so che sarebbe estremamente difficile magari psicologicamente cercare di farne meno però fai veramente un periodo con poco poco volume piuttosto potresti fare ancora meno volume tipo 10-15 su molti articolari pesanti quindi magari ti fai dip con sovraccarico panca piana panca inclinata e usi intensità più alte in modo da mantenere comunque alto il livello di allenamento ma decondizionarti un po' da tutto il volume perché se no appunto uscire da uno stallo così se non cali mai il volume di tanto è difficile quindi cioè se tu reggevi 30 set oltre al fatto di essere stato al limite vuol dire che comunque con 12-15 set già ti stai allenando quindi fatti magari un mese 12-15 set è piuttosto una progressione imposta da solo sull'intensità quindi che so classico 5x5 per dire fai un 5x5 o ne seduta provi a fare un pochino di più o anche nei complementari volume fisso però non aumentare il volume se no ritorni alla situazione di prima che non serve neanche staccare settimane ovviamente di volume però 3-4 settimane di volume basso me ne farei e scherzo sonno con maggiore appetito è una casualità e dov'è la oh si dipende cioè detta così un po' fumosa ciao andare con i ginocchi oltre la punta dei piedi negli affondi lo squat ovviamente fin dove l'articolazione lo permette non ripeti un errore se si perché no in realtà è stato dimostrato ampiamente che è una cioè non una mezza cagata proprio una cagata quella di non andare oltre le punte dei piedi con le ginocchia l'unica cosa che posso dirti è che negli affondi è un errore tra virgolette solo se fatto con quelli camminati in avanti non tanto per il concetto di non andare con le ginocchia oltre le punte dei piedi quanto per il fatto che molto spesso le persone tendono a buttarsi sul ginocchio quindi se vai avanti voglio dire che forse ti sta slittando troppo l'articolazione diciamo stai andando troppo sulle ginocchia quindi negli affondi a meno che non sia proprio focus sui quadricipiti farei quasi sempre affondi indietro perché hai più sotto controllo lo scarico del peso cioè io ad esempio anni anni fa proprio all'inizio quando ero pischello mi sono distrutto in ginocchio no mi sono fatto male in ginocchio però perché avevo l'abitudine di fare il passo in avanti e buttare tutto il peso sull'articolazione in quel caso il ginocchio va avanti ed è un problema perché deve assorbire comunque tutte le forze di taglio del corpo quindi insomma non è un problema a meno che non sia dovuto al fatto che tu ti ci butti proprio dentro sono due settimane che uso il Russian Bear inverso quello fatto con le singole ti ringrazio davvero tanto utilissimo ah bene mi fa piacere ok intanto ne prendo qualcuna in ottica di tuoi full body consigli sei settimane di stacco regular e poi altre 6 di sumo oppure alternarli nella settimana no ma in realtà ti dico vanno bene entrambi se devo scegliere preferirei alternare gli stacchi se sei ovviamente in ottica ipertrofia quindi ti fai un mese di regolare e un mese magari di sumo presupponendo che tu li sappia fare bene entrambi se no va bene inserirli tutti e due l'importante è considerarli per i gruppi muscolari giusti quindi sumo si siamo lì tipo il sumo secondo me coinvolge un po' bene i femorali perché parte più alto più gluti però alla fine l'importante è metterlo nella seduta giusta poi va benissimo anche a farli insieme no mi stavo facendo una domanda da solo invece che scorrere ok il russian bear è solo in monofrequenza no in realtà è solo in multifrequenza cioè A B A B A cioè volendo puoi fare anche due A se ti puoi allenare solo due volte però di base è multifrequenza russian bear e ti ringrazio seguitissimo ok fun colare squat front squat e spostarsi su ax squat leg press in ottica bodybuilding su un hip dominant e la mobilità tipiotarsica fa schifo perfetto no sì alla fine sta cosa dei tre big che sono fondamentali come dico sempre a proposito di mezza cagate oggi tutte le risposte sono così sì non è che il tuo corpo sa che sta facendo uno squat il tuo corpo sa che sta facendo un'accosciata se l'accosciata la fai la squat la fai la leg press non è che se ne accorge e dice no io cresco solo con lo squat quindi va benissimo mentre lavori magari sulla mobilità della caviglia per riuscire poi a fare squat libero e mi sono perso una domanda e come migliorare la mobilità dell'anca per lo squat questo mi è un po' difficile mimarlo purtroppo della diretta devo sempre farci dei video però mi mi perdo come inclinare di più il busto nel low bar ti butti in avanti no perché inclinare di più il busto nel low bar cioè dovrebbe essere naturalmente più inclinato per una questione di baricentro cioè essendo il bilanciere più basso ti porta da sé a buttarti di più in avanti e poi ovviamente scendendo ti inclini però non è deve essere quanto sono fondamentali fondamentali nessuno ti segue su youtube sì oggi sono tra l'altro rimasto ferito dallo scoprire che mio persino mio cugino che ha 15 anni che non va neanche in palestra segue uno di quei youtuber babbi che nascono come come dire ambiente palestra e poi l'unica cosa che fanno è postare video di loro che mangiano e mi ha proprio ferito nell'orgoglio questa cosa comunque no per carità il mio canale youtube sta aumentando perché ho ricominciato a fare video da inizio febbraio e ho più che ero addoppiato gli iscritti però fa veramente se ho capito con questa non ti so rispondere perché usino il monolift però in generale mi rendo conto che senza pubblicare cagate si fa fatica perché io per primo comunque i video che guardo su youtube sono video più tipo io guardo human safari human safari la sera ti metti lì ti guardi sui video di viaggi ora ho cominciato a seguire rick du ferre che non lo conoscevo cazzo mi piace un sacco come come youtuber che parla di filosofia parla di film cioè sono comunque canali che puoi tra virgolette volendo te li guardi una sera e dubito che qualcuno spero per lui si metta a guardare i miei video la sera anche se mi hanno detto una persona mi ha detto di farlo dimmi che parlo dell'allenamento quindi essendo argomenti un po' troppo specifici non è che sia particolarmente attrattivo però ma contento cioè alla fine se qualcuno comunque cerca come dice risposte particolari le trova bisogna averne voglia però io per primo dicevo su youtube cerco svago non è che vado rick du ferre sto guardando dei suoi video bisogna stare attenti perché se becchi quello sbagliato scivoli in depressione quindi oggi mi sono capitati uno che parlava di dio della morte ho detto va fanculo chiudiamo poi guardiamo qualcosa di più all'euro ho comprato il suo libro tra l'altro mi arriva domani spinosa ipocorn perché già mi piace la filosofia più ho beccato uno che ne parla bene ha detto vediamo cosa scrive dunque cosa causa la retroversione del bacino nello squat e quanto è grave e cosa la causa nello specifico è difficile ci possono essere mille ragioni dalla semplice conformazione corporea leve c'è chi secondo me è destinato a retrovertere c'è chi è molto mobile e ha le leve più giuste non retroverte e tendenzialmente causato dal fatto o problemi tecnici quindi zero capacità di reclutare correttamente i muscoli posteriori quindi non riesci proprio a controllare il bacino a tenerlo in posizione mentre scendi o ancora più comune specie per chi è iniziato da poco tra virgolette ad allenarsi fai veramente fatica se hai la catena cinetica posteriore tirata cioè diciamo accorciata scusate quindi se tu hai ovviamente i femorali che sono due pezzi di legno non allungandosi ti tirano indietro al bacino per quanto riguarda il quanto è grave che alla fine è la vera domanda a cui rispondere non è troppo grave perché come ho già detto in qualche video poi in qualche diretta più che altro se tu retroverti comunque retroverti in una posizione cioè sotto il parallelo in cui stai pochissimo cioè tu scendi sotto il parallelo pum risali subito l'importante è non retrovertere da tutta la zona sopra il parallelo perché comunque se tu becchi uno sticking point impegnativo e non sai tenere la schiena lì si ti fai ti fai male però se in generale invece sai tenere la schiena per tutto il movimento i retroverti solo nell'ultimo tratto si sopravvive benissimo perché non è lì che ci sono le maggiori tensioni nello squat quindi si va avanti cucina in generale oltre la pesticeria ti interessa ma in realtà non particolarmente perché sono uno che tolti i dolci mangio per sopravvivere quindi non ho particolari mire alimentari anche se mi piace Masterchef però no preferisco fare dolci ho uno sfasamento del bacino una gamba leggermente più corta dell'altra quale tipo di stacco scuotto utilizzare e beh ora è difficile darti un consiglio soprattutto senza rischiare di ucciderti no nel senso non vorrei mai che qualcuno seguendo qualche mio consiglio dato così per parlare si facesse male sicuramente se hai nel sfasamento del bacino è più complicato ora non so se hai addirittura delle scarpe apposite diciamo per sistemare la cosa però però in generale su quale tipo di squat stacco scegliere io in generale direi semplicemente quello che non ti fa male squat stacco anche semplicemente eviterai magari quelli che vanno ad accentuare la cosa con stance larghi quindi probabilmente il sumo ti peggiora rispetto ad un regolare però in generale lo vedi da te se tu fai un tipo di movimento e ti causa dolore l'anca la schiena cose di questo tipo non è magari un movimento che fa per te fermo restando come dicevo prima che chi se ne frega di squat e stacchi cioè tu magari puoi fare anche spingimento una pressa monolaterale butto lì a caso e gestire tranquillamente questa cosa senza problemi puoi lavorare magari con gli affondi cioè magari con il lavoro monopodalico riesci a gestire meglio tutte queste problematiche di quanto non le gestisci facendo multiarticolari che fanno un po' il contrario e ti vanno a far lavorare in modo dispari diciamo in modo dispari vabbè immagino abbiate capito dolore alla schiena quando vengo appeso perché ti hanno appeso e no così è un po' troppo così chiedere troppo programma da non fare 2.0 per le trazioni ci sta mentre si fa un ciclo russo a voi piace fare tante cose con programmi complicati e guarda da un lato mi verrebbe da dirti di sì perché non è che vai ad interferire a livello di muscoli anche se la panca lo e lo stacco non è che non vadano a coinvolgere i dorsali però puoi provare sicuramente più esercizi fai più programmi fai meno alta è la possibilità di riuscire a sopravvivere al ciclo russo un po' come la storia degli 4 squat sullo small diciamo che non è proprio il top delle idee eccezionali quando si fa un programma pesante però alla fine come dicevo prima si prova ammetti che sei in una super ipercalorica e hai massimali con grande potenzione di crescita fai tutto archiviato un cascato adesso al luce valgo ginocchio della lavandaia gomito del tennista vabbè non parlerei di tere i piedi visto che me ne sono lussato uno facendo panca no oggi qualcuno mi ha chiesto del gomito a scatto non voglio credere che esista davvero il gomito a scatto spero fosse una battuta in tal caso non ne usciamo più altrimenti da questi cazzo di scatti cioè se può scattare in qualsiasi o la spalla scatta no uno sicuro mi ha chiesto del gomito a scatto però no non ci credo non esiste davvero disidratazione dunque anche se no l'ottima domanda è quella che mi chiedono a me sull'indice glicemico del post workout quella devo ammettere mi ha dato una certa dose di soddisfazione perché praticamente è l'antitesi il dito a scatto esiste allora vedi che esiste qualsiasi cosa a scatto no ora giuro appena un attimo mi documento su queste cose a scatti e ne verremo a capo ci farò un video promesso oppure comincerò a fare un merchandise di omini con articolazioni a scatto e divento milionario dove quei due food server ne hanno fatto se non sbaglio il cazzetto da appoggiare in giro quindi figurati se io non posso fare l'anca a scatto no dicevo l'indice glicemico del post workout mi mancava perché quella forse è veramente la ultimamente è la dimostrazione che si sta guardando veramente il cazzo di sicurezzo esatto il cazzo di sicurezzo esattamente quindi io posso fare l'anca a scatto portatile da mettere antistress magari mi invento qualcosa o di quelle con la presa sì e poi io sul comodino ho questa bellissima tipo sembra una goccia di sangue come l'avevano regalata a lavoro quindi posso fare l'anca a scatto antistress fai il black friday per il tuo coaching sì faccio il 50% in più dello sconto che faccio ora quindi e allora cosa ne pensi alla glucosamine con doletina per cartilagine consumata no allora esperienza prima persona su queste cose io ho avuto un periodo intorno ai 20-25 facciamo in cui praticamente avevo problemi articolari a iosa perché mi allenavo troppo pesante e mi mancavano ancora qualche concetto tecnico a cui sono arrivato dopo mi mancava ho preso per un sacco di tempo tutta quella roba lì e devo ammettere che non è servito a una merita minchia secondo me cioè va bene giusto invece che hai detto non vecchiaia secondo me sono integratori proprio da utilizzare in ambito come dire vecchiaia perché se no diventano cioè l'articolazione di un anziano che deve fare le deve fare le scale è un conto se tu devi fare 150 kg di squat secondo me non basta la chondroitina piacerebbe sapere come è finita col tizio che deve fare squat con la diarrea piacerebbe anche a me forse cioè non lo so se lo voglio sapere però non l'ho più sentito quindi magari è ancora in bagno in palestra si oggi ho ricevuto una domanda chiamiamola di uno che doveva andare a fare squat però aveva la diarrea non so come fare è stato anche qui spero fosse uno scherzo però non sono sicuro di quanto fosse uno scherzo e come non l'ho pubblicata perché non l'ho fatta in tempo l'ho letta giusto prima di cominciare la diretta uno mi ha detto che quando fa stacco perde aria non mi sono sentito di chiedervi dove perda l'aria forse non lo voglio sapere dopo quello della diarrea cioè a volte mi stupisco un po' ovviamente si fa per scherzare però a volte non me le aspetto proprio a certe domande voglio 80 chi del tuo mitri press guarda allora no l'ho fatti anni fa però pesavo 10 kg di più quindi praticamente ho fatto come gli 70 di adesso la doppia 70 non l'avevo mai fatta ora sto facendo come dicevo l'ho detto l'altro giorno lo small of sul military press proprio perché mi sono impuntato sul military press un po' perché mi sono accorto che con anni e anni di panca ho veramente la forza di spinta orizzontale molto ora mi avete fatto riscoprire il mio antistress ho veramente la spinta orizzontale molto più avanti di quanto non sia quella verticale e fondamentalmente per tutti gli esercizi a corpo libero planche bandiera tutto il corpo libero si basa su avere del toy di front dei toy di forti e io ce l'ho indietro rispetto alla spinta quindi ora voglio fare almeno appunto 80 kg di military press sulla small of tra l'altro è interessante perché lo si vede sempre su esercizi pesanti come lo squat mentre su un esercizio oggettivamente più leggero come il military press è più interessante perché recuperi molto più in fretta cioè se tu oggi fai il quello finale il 10 per 3 all'85% nello squat ti pesa nel military ovviamente anche ti pesa perché ora stessa settimana lo devo fare con i con quasi l'87 90% quindi è pesante però i lunedini anche mi sembra di averlo fatto l'allenamento del sabato quindi il fatto che si recuperi molto più in fretta di spalle è interessante voglio un po' vedere dove dove si va a parare se non mi vedete più il mercoledì è perché non sono sopravvissuto allo small of ho benvenuto anche a me la diarrea mentre mi allenavo oh gesù una settimana di stop da un programma di pl come riprendere o solo ricominciare da capo o solo ripetere la settimana precedente no ripeti la settimana precedente consiglieresti pre-workout una fetta di torta del sabato beso e poi stacchi da terra sì a parte per te che poi ti viene la nausea mentre ti alleni però tutti sopravvivono al pre-workout oggi appunto mi hanno chiesto anche l'indice glicemico quindi figuriamoci se non va bene una buona fetta di torta cosa ne pensi del Bulgarian Light che cos'è scusami no mi manca il Bulgarian Light a meno che non sia una cosa che conosco con un altro nome e mi ero perso una domanda prima perché ci si è messo a parlare della diarrea di quel tizio e dell'altro che perde aria quindi me ne sono un attimo perso delle domande ah no allora soffro di più evitare il back bend sì no secondo me è molto più una cagata quelli che sostengono assolutamente l'importanza di dover stare dritti cioè se vuoi stare dritto immobile fate una shoulder press con manubri che col braccio anche leggermente più di lato diventa veramente più per il deltoide se tu vuoi fare un military press cazzo la partenza deve essere fatta in modo che coinvolga di più il pettorale cioè se no appunto vai a fare altri esercizi se non vuoi coinvolgere tutti i muscoli del corpo non fai un military press cioè io senza proprio mettere bene in fuori il petto quando faccio military no oltre al fatto di rischiare di farsi più male alle spalle perché se tu hai un setup poco ottimale a spingere bene lì sì che ti fai male cioè l'ho detto una volta quando facevo l'istruttore di sala quindi un po' di anni fa a un ragazzo che eh ma mi faccio male alla schiena che faceva mi sembra 30-40 kg di military press allenanti e gli ho detto scusa quanto fai di di stacco quanto fai di squat e stava sul centone anche un po' di più dello stacco e lì ho detto come fai a farti male con 40 kg 30 kg se nello squat sulla schiena ne hai 100 cioè oggettivamente non è possibile farsi male alla schiena perché hai un 70 anche solo 70 80 kg di lento avanti sulla schiena quando nello stacco ne vai a fare più del doppio più probabile che tu ti faccia male alle spalle se fai male lento avanti perché non devi far male alla schiena nel military sento tanto anche il dorso assolutamente perché comunque è come nella panca cioè la prima parte io anche lo sento tantissimo poi non lo senti più però la schiena fa comunque parte dei muscoli che inizialmente spingono cioè petto dorso e per quello è sensato secondo me cercare di andare a fare un esercizio pesante cercando di isolare un muscolo è veramente una cosa senza senso cioè non prendi proprio in considerazione come è fatto il tuo corpo se tu cerchi di isolare un muscolo in un multiraticolare cioè se vuoi andare le spalle ti fai le alzate laterali un po' come il discorso che vedevo settimana scorsa su questo voler non far lavorare il trapezio nelle alzate laterali il trapezio già si chiama ritmo scapolo-omerale per un motivo perché tu muovi l'omero e si muove la scapola l'omero lo muovi col deltoide e la scapola è mossa dal trapezio non puoi pretendere di non muovere la scapola ti si disarticola l'omero se non ha una base di appoggio sulla schiena che poi infine diciamo ce lo diventa quasi un presso olimpico ma assolutamente sì 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 ovvio nel presso olimpico esageravano un cicinino però per forza di cose cioè la partenza anche perché sono ok non fanno male alla schiena dal punto di vista magari di carico oggettivo però cazzo pesano cioè se tu non ti metti su una linea di spinta che ti permetta di spingerli non se ne vanno da lì dal petto intendo quindi sì l'impostazione giusta è quella del presso olimpico cioè alla fine non è che fossero da un lato erano esagerati e dall'altro non è che erano stupidi per spingere i chili nel military press devi avere il petto più in fuori possibile se no i pesi da lì non si muovono c'è chi dice che le scapole del military devono rimanere depresse allora una volta lo dicevo anch'io probabilmente perché ci sono come sempre diverse scuole ad esempio nel giri sport o comunque nell'usare i kettlebell ad esempio mi viene il laputin le scrollate laputin come cazzo si chiamano qualcosa di simile che magari vi è capitato di vederlo cioè in tutte le palestre c'è sempre il tipo che cammina con un braccio teso al kettlebell quell'esercizio è appunto per imparare l'incastro del del braccio nelle distensioni sopra la testa chi fa giri sport considerando che deve macinare un centone di ripetizioni in una competizione ovviamente incastra perché almeno la spalla è passiva cioè appunto incastrando non avendo un lavoro attivo ci si stanca di meno quindi ho sempre cercato anche di per assurdo mi sono infognato tra virgolette di military press dopo aver fatto questo mio bravissimo e con poco successo periodo di no mi è caduto il vabbè preso dopo aver fatto questo periodo di giri sport e quindi ho cominciato a fare military così quindi incassavo sempre col tempo però visto che mi trovo meglio con la scapola più attiva diciamo quindi chiudendo attivamente anche perché sono poche ripetizioni e quindi non è che ti scoppino le spalle se le dai un pochino più attive anche perché comunque la scapola ha il suo ritmo e secondo me alzare la scapola favorisce poi appunto 230 kg di Alexev cioè alla fine se tu guardi un esercizio come quello devi guardare la tecnica di chi ci faceva dei chili cioè non è che io vado a imitare la tecnica di quello che sente il muscolo in un esercizio multiarticolare di quel tipo devi ben prendere la tecnica di chi ci faceva dei chili poi devi essere veramente bravo per fare una pressa come quella che facevano nel presso olimpico però uh in volata allora zombie end mi aspetta turkish get up ti piace perché volete farmi triggerare negli ultimi sette minuti no allora il no il backband suo decisamente non lo batte nessuno no dicevo turkish get up allora dovete sperare che io ho passato anni a lavorare in una palestra in cui tutti facevano queste cose cioè cercavo di fare punk con a fianco uno che faceva il turkish get up o get up cioè ho parlato alla marcia capatonda o cercavo di fare punk e sto qua facendomi swing addosso quindi il mio rapporto verso questi esercizi è un pochino influenzato dalla mia esperienza è un buon esercizio di coordinazione si può fare trovo però poco senso nel dedicarci cioè secondo me è un esercizio ausiliario non è un esercizio fondamentale sinceramente non concordo con quelli tipo strongflex diciamo che fanno cioè programmazione intorno al turkish get up cioè alla fine sei comunque con un braccio teso e cerchi di alzarti fa figo farlo con una tipa ogni tanto spunta qualcuno che lo fa con una ragazza però non mi piace sinceramente come esercizio cioè non è neanche tutta sta coordinazione alla fine boh non mi piace poi non dico che sia una merda a prescindere però a me non piace riprendere dopo un mese di stop riprendere a zero sì dopo un mese sì assolutamente cosa ne pensi del metodo della serie di interscalare ho letto il libro devo rileggerlo allora il libro di per sé qualcosina interessante avevo trovato assurdo il fatto di trovare in un libro di tre professori universitari i piegamenti sulle braccia fatti così cioè infatti avevo dovuto togliere l'immagine e la mia critica perché non era stata presa benissimo però vaffanculo cioè sei un professore universitario mi metti i piegamenti così rivediamo un attimo qualche concetto tolto questo il metodo interessante certo un intero libro di cento pagine su un metodo un po' architico forse però approfondisce bene e spiega semplicemente diciamo perché sia utile andare a lavorare a ripetizioni lente perché funzioni fondamentalmente sintesi lavorare le ripetizioni lente funziona perché tu con poco peso eviti di farti male prima cosa perché magari un infortunio o cose di questo tipo tu vai a fare una serie di dieci secondi salita e discesa se non ti annoi prima o ti addormenti cosa succede che facendo quattro ripetizioni fondamentalmente al 50% arrivi comunque vicino al cedimento quindi sortisci un po' lo stesso effetto del fare 30 ripetizioni e quindi è allenante quindi da questo punto di vista è interessante anche tutti i test che hanno fatto cioè non dico che è un brutto libro trovo un po' demotivante quelle foto finali che dicevo mi sono perso una domanda scusate PL Calisthenics aggiunge anche Croazie diventa Gijimufu italiano no minchia mi piacerebbe fare come Gijimufu mi sarebbe sempre piaciuto fare Croazie però non ho mai avuto modo di impararle quanta importanza della mobilità è importante per assurdo io ne do poca perché sono sempre stato molto mobile quindi non ho mai dedicato particolare tempo alla mobilità ad esempio il ponte a terra mi sono trovato capace di farlo dopo tre sedute che ci ho provato perché di mio sono mobile ti direi che è importante in una cosa come può essere la palestra classica powerlifting al massimo quindi non pesistica è importante quanto basta perché tu abbia la mobilità per fare gli esercizi che devi fare cioè non ti serve a niente voler fare la spaccata se devi fare uno stacco regolare cioè dopo che hai la mobilità per scendere sotto il parallelo e alzare il braccio sopra la testa è tendenzialmente finita lì secondo me ad esempio nel calisthenics è molto più importante la mobilità perché senza determinati livelli di mobilità non riesci a fare le skills che devi quindi ogni sport ha il suo livello di mobilità nel powerlifting è bassissimo cioè per quello lo può fare chiunque si vedono anziani di 80 anni che fanno record perché il livello d'entrata è molto basso ah ok allora non sono l'unico che ha trovato deprimenti le foto finali purtroppo bisogna anche dirle le cose come stanno cioè questa aura l'ipsed exit non mi è piaciuto quindi purtroppo quella parte è da bocciare grande Ale grazie anche se sono secco ultimamente cosa pensi dell'overhead squat ecco a proposito della mobilità l'overhead squat è uno di quegli esercizi che richiede particolarmente ho ancora due minuti più mobilità degli altri esercizi perché devi riuscire a tenere le braccia sopra la testa e questo scendere in squat con le braccia sopra la testa ti obbliga a tenere la curva lombare particolarmente accentuata non nego che io l'ho provato tempo fa dopo tanto che non lo facevo un 40 kg mi sono ribaltato dentro il rack perché non mi ricordavo come si faceva è un buon esercizio nella parte di squat del mio famoso libro nuovo che non so quando esce quindi non chiedetemelo perché veramente rigirare un coltello nella piaga c'è l'overhead squat cioè se tu ti alleni a casa puoi fare solo squat a corpo libero è un ottimo esercizio perché va a coinvolgere meglio anche i glutei ad esempio perché se tu hai le braccia sopra la testa la curva lombare è più iperestesa diciamo e questa iperestensione ti tiene il ti fa coinvolgere maggiormente femorali e glutei quindi ottimo esercizio però è uno di quegli esercizi che magari richiede molta più mobilità cioè se tu lo fai a corpo libero con un asciugamano pazienza se tu fai come me che ah dai rifacciamolo con 40 kg e ti perdi un attimo ti ritrovi con la faccia dentro al rack quindi va un attimo inquadrato ho ancora un minutino questa diretta mi è piaciuta particolarmente quindi c'è stata anche un botto di gente quindi grazie a tutti per la partecipazione e meno male che ora vado al cinema così sto un po' zitto perché finisco le dirette sempre un gran mal di gola e che dire allora questa settimana per chi c'è ci vediamo a Padova siete diventati tantissimi non me l'aspettavo allora aspetta provo a rispondere rapidamente le domande quanta durata dai l'allamento importanza dai la durata dell'allamento pochissima di per sé cosa cambia andare oltre i 90 minuti niente secondo me non ho mai visto effettivi vantaggi nello stare sotto ma anzi se hai più tempo magari ti prendi più recuperi e ti alleni meglio cioè io la cosa dello stare sotto tot tempo non ci ho mai creduto nel libro che uscirà tratterai anche programmazioni perché si può allenare in poco tempo e con poco materiale sì guarda oggi nelle domande ho risposto che quello vorrei fosse il sottotitolo cioè allenamento per chi ha poco tempo e pochi attrezzi non è per forza un libro per chi si allena a casa in gran parte però lo puoi fare anche se ti alleni in palestra è partito il terribile conto alla rovescia a 20 secondi quindi ribadisco grazie a tutti per la partecipazione quindi grazie per le domande e per avermi tenuto compagnia in quest'ora pubblico come sempre la diretta su youtube domani mattina e come sempre ci vediamo mercoledì prossimo quindi buona serata vi farò sapere come zombie milenio